Per ogni donna, stuprata e offesa, siamo tutte parte l'ESA! E' questo lo slogan per la manifestazione avvenuta ieri a Montalto di Castro dall'Associazione Rinna contro la violenza sulle donne. Un gruppo, venute da Bologna, Grosseto, Viterbo, Siena, hanno gridato tutta la loro solidarietà alla ragazza stuprata sui fatti avvenuti un paio di anni fa nella pineta di Montalto di Castro. Sono partite da Piazza San Sisto, armate di striscioni e cartelli, fino ad arrivare alla Piazza del Comune, manifestando nelle vie del paese contro la violenza sulle donne. Siamo state contattate da tante donne da tutte le parti d'Italia che hanno ritenuto opportuno manifestare in questo paese. Ovviamente non in contrapposizione con i cittadini e le cittadine che si sono espresse in quella terribile trasmissione che voi conoscete, ma per sostenere quelle che non sono riuscite ad esprimersi, per mettere l'accento su un fatto grave che è successo a Montalto, a differenza di tutti gli altri posti dove accade sempre la stessa cosa, anche se sono passati 30 anni da quel processo di stupro famoso. Veniamo qua principalmente in sostegno alle donne che continuano a denunciare le violenze, perché la violenza è la prima causa di morte per le donne dall'adolescenza all'età adulta e si verifica ovunque, per le strade ma principalmente in famiglia e noi sosteniamo le donne che fanno violenza e siamo assolutamente indignate perché dei soldi pubblici possano venire utilizzati per pagare delle spese agli stupratori e sosteniamo e riteniamo e dovrebbe essere in linea anche con le istituzioni che tanto parlano e poco praticano sul fatto che i soldi pubblici debbano sostenere le strutture e le case delle donne che subiscono violenza e non i processi per degli stupratori. Penso che questa sia una giornata auto-organizzata dalle donne, comunque mi sembrava fondamentale rispondere a una violenza di gruppo e anche alla copertura istituzionale con una presenza defilata nelle ultime file, ma una presenza contro ogni violenza contro le donne di gruppo e istituzionale o di chiese.